Arrivi a Mirabilandia, evviva Mirabilandia Ogni volta che entro nella Stunt Arena respiro aria di casa e pensate che il prossimo anno saranno ben 25 anni di Stunt Show prima con Scuola di Polizia e poi ovviamente con la brandizzazione di Hot Wheels e visto che siamo qui parliamo di Stuntman insieme a Matteo Andrella, insieme ad Emanuele Brighi però insieme a Matteo vorrei immediatamente parlare proprio della figura dello Stuntman perché Matteo ha svolto tantissime attività nel mondo degli Stuntman e insieme a te vorrei proprio approfondire questo discorso prima di arrivare ad essere un vero e proprio pilota, un vero stunt rider tu hai guidato le moto d'acqua, hai fatto il cascatore hai fatto tantissime attività per quanto riguarda per l'appunto la figura professionale dello Stuntman come si arriva ad essere Matteo Andrella? difficile, adesso per come sono io ci arrivi dopo 22 anni di lavoro l'idea mia era comunque la partenza dello Stuntman parti da una specialità che hai voglia di migliorare tutto io ero partito dalle moto d'acqua poi dalle moto d'acqua avevo la voglia e la possibilità di passare in altre discipline quindi quando lavori con colleghi di un certo livello così cerchi sempre di imparare e di approfondire per l'appunto questa figura professionale che poi alla fine se hai l'obiettivo magari dei parchi o dei film più cose riesci a fare più possibilità hai esattamente fino ad arrivare poi al vero e proprio mondo dei motori nel senso che ti sei appassionato alle auto e da qui basta con la tua vita con Stuntman Show Production assolutamente e una cosa importante è appena arrivata nella tua vita la cosa più straordinaria che per l'appunto la tua bambina Zoe adesso che hai Zoe come vedi la figura del tuo Stuntman? cioè noi parliamo sempre di sicurezza nel nostro mondo del lavoro ovviamente e cerchiamo soprattutto di rispettare sempre nonostante la pericolosità delle nostre azioni ma di rispettare tutti i parametri di quella che è la sicurezza per l'appunto come ti vedi come papà nel mondo degli Stuntman? allora sì, il lavoro qui il rischio c'è sempre, ovvio che c'è in ogni momento ovvio che se sei a Mirabilandia e hai un certo livello come hanno i miei colleghi il rischio è minimo perché sai che lavori con gente professionale, gente brava gente che è veramente quasi impossibile che sbagliano e quindi lavori in un luogo pericoloso ma in realtà io negli ultimi dieci anni di Mirabilandia non ho mai rischiato niente quindi sono abbastanza tranquillo e so che la bambina mi rivede tutte le sere sano come anzi più sano di prima è vero, con una bella botta di adrenalina pronto a cullare la tua cucciola che è meravigliosa quindi benvenuta Zoe che è un pochino la nostra mascotte e la nostra cucciolotta insieme anche ai cuccioli di Domenico che è un altro ragazzo che lavora nel nostro staff però a proposito di cuccioli c'è un'altra persona che ha iniziato veramente giovanissima infatti è lo stuntman più giovane del mondo siamo in compagnia di Emanuele tra l'altro Manu ricordiamo anche il tuo contatto Instagram perché sei seguitissimo Emanuele Ostunt, pratino basso, 05 e insieme a Manu da quanto tempo ti sei appassionato di questo mondo anche perché poi diciamo come ti sei avvicinato perché è sicuramente molto più bello fare lo stuntman ma oltre a fare lo stuntman bisogna prima imparare a fare i lavori in officina ho iniziato anche a fare il meccanico ho iniziato a fare con il go-kart poi pian piano mi sono avvicinato al mondo dei motori, delle auto del drifting in particolare in particolare esatto abbiamo fatto tante fiere in giro per il mondo abbiamo fatto una manifestazione straordinaria tu sei stato a Doha nel Qatar sei stato a Riad in Arabia Saudita, a Dubai e poi finalmente sei approdato a Mirabilandia insieme a Stuntman Show Production un consiglio che dai a tutti i cuccioli che amano questa professione? di stare attenti e quando inizi bravissimo Matteo ha detto una cosa importante prima dovete studiare perché la cultura è fondamentale assolutamente, bravo più che altro quando si inizia si deve finire la tua passione devi assolutamente stare dietro alla tua passione devi occuparti anche di quella che è la meccanica devi occuparti di quella che è la preparazione e soprattutto essere sempre in ambienti sicuri e protetti perché non ci si improvvisa stuntman per nessun motivo esatto e allora visto che vi ho tenuto qui occupati a parlare ma non è la vostra cosa principale la vostra passione è quella di fare una chiacchierata con me avete ragione ci fate vedere qualche cosa con le vostre macchine? e allora li vediamo immediatamente in azione qui su Is Good For You insieme agli stuntman Matteo Andrella e insieme a Emanuele Stunt, Manu Brighi pronti a partire? vai ci stiamo is good for you iscriviti al canale